Ci aspettiamo una serata straordinaria, Neri è un artista fantastico, è una persona che rappresenta le marche in Italia e nel mondo. Abbiamo chiesto a lui di venire a fare una serata per la nostra associazione Muse, ha subito raccolto questa richiesta e per noi è un motivo di orgoglio grandissimo. È un artista che sa coinvolgere il pubblico, molto sensibile alle tematiche sociali e non solo, basta pensare alla campagna, alla sua dedizione per i sorgimarche. Siamo davvero soddisfatti per un Neri Marco Re che nella sua Porto Sant'Elpidio ha scelto di sostenere Muse. Sono otto anni, Muse oggi coinvolge 17 classi, 12 scuole e circa 320 bambini. È nata un po' per scherzo, per la scelta di una serie di imprenditori e di altre persone che hanno pensato che dedicare ai bambini un po' del nostro tempo, dedicare a tematiche quali l'integrazione, il disagio ed andare ad operare nelle scuole dove maggiore questo tipo di difficoltà potesse essere una sfida. A distanza di otto anni questa sfida è rinnovata, siamo cresciuti, con difficoltà cerchiamo di raccogliere sul territorio le risorse necessarie per mandare avanti il progetto. Stiamo operando bene attraverso anche serate come queste dove facciamo raccolta fondi per la nostra associazione che ci permette di rispondere alle scuole e fare in modo che i bambini coinvolti nel nostro progetto siano sempre di più.